Partiti oggi i saldi estivi in Sicilia e Federconsumatori Palermo, oltre a stimare il volume di affari di questa sessione e a non condividere la scelta della data decisa per l'avvio degli sconti, mette in guardia gli acquirenti con un decalogo per evitare raggiri. Le proiezioni di Federconsumatori Palermo prevedono mediamente una spesa di 180 euro famiglia per le vendite scontate. Tra i commercianti si respira aria di ottimismo se si pensa alle previsioni del periodo, con la speranza che si riesca a superare l'impasse degli anni passati. La raccomandazione più importante sui saldi è quella di non fermarsi mai davanti alla prima vetrina e confrontare i prezzi, di fidare dalle vetrine tappezzate dai manifesti che reclamizzano sconti pari o superiori al 60%. Occhio al cartellino del prezzo. Su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente il vecchio prezzo e quello nuovo. Dal 1 luglio 2022 sono scattate le sanzioni per esercenti che non permettono i pagamenti tramite POS. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto. Problemi o bufale devono essere subito denunciati ai vigili urbani, all'ufficio comunale per il commercio o a Federconsumatori.